Ma siamo liberi. E' il modo in cui si fa di solito, I feel, se mi viene offerta la possibilità di utilizzare un software a fatto che io accerchi di non condividerlo con nessuno, ritengo che sarebbe sbagliato, mi farebbe male spiritualmente, quindi non voglio che investano in software di proprietà, e non credo che sia giustificato incoraggiarli a investire in software di proprietà. Penso che il software veramente grande sia stato realizzato da hacker che lo facevano perché lo amavano, perché era un gioco di ingegno, e questo continuerà in ogni caso. Penso che ci siano modi alternativi di organizzare una certa quantità di denaro per pagare gli stipendi delle persone, pagandole per passare il loro tempo a scrivere programmi. Se la gente vuole che si iscrivano certi siti di programmi, perché può scocitare altre forme di organizzazione, posso suggerirne alcune, ma la cosa importante è che ci sono molti modi alternativi di fare le cose. Questo è stato scelto perché permette alle persone che investono nelle aziende di software di ottenere il maggior numero di profitti tra tutti i modi disponibili. Non credo che sia un imperativo sociale dare loro il massimo profitto possibile. Penso che l'imperativo sociale sia che le informazioni sviluppate siano accessibili a tutti il più liberamente possibile. Se consideriamo il principio alla base, il principio dell'incentivo, dare alle persone incentivi per fare le cose che si desidera incoraggiare e poi ci chiediamo cosa stiamo dando incentivi alle persone, ma ci accorgiamo che non stiamo dando loro alcun incentivo per fare le cose che portano più benefici alla società. Se una persona ha una scelta, può scrivere un programma e poi incoraggiare tutti a usarlo in qualsiasi modo gli vada bene oppure può scrivere un programma e poi commercializzarlo accappallandosi i piani, dicendo alle persone che non possono condividerlo con i loro vicini, essendo molto odioso e ostruzionista. Vediamo che ha un incentivo a essere odioso e ostruzionista, non ha un incentivo a collaborare. Penso che questo sia malato, penso che sia una cattiva organizzazione sociale, perché stiamo incoraggiando la maggior parte di ciò che non è buono per noi.